Sabato 7 agosto le acque antistanti, la fontana di Cascella, ospiteranno la prima edizione della nuotata città di Pescara che vedrà al via oltre 150 atleti provenienti anche da fuori regione. Oltre alla competizione in acque libere ci sarà anche una dimostrazione dei ragazzi diversamente abili. L'organizzazione dell'evento è curato dalla SD Pescara Open Water in collaborazione con il settore nuoto della WISP Abruzzo e Molise. Un evento importante per la prima volta, una grande collaborazione insieme all'assessore della disabilità. Avremo la possibilità di ospitare 150 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale con diversi bambini con disabilità diversa. È un evento importante perché per la prima volta quest'estate Pescara ha ricevuto il titolo di Bandiera Blu 2021 quindi andremo a valorizzare ancora una volta le nostre acque. Per la prima volta l'assessore della disabilità insieme all'assessore allo sport insieme hanno avuto questa idea di mettere insieme perché finalmente dopo un periodo buio si possa aprire per loro un periodo veramente diverso e quindi io sono veramente felice di questa iniziativa. Nuotata città di Pescara, questa manifestazione è una manifestazione sportiva però è una manifestazione anche sociale e culturale cioè sono tre aspetti che vanno benissimo insieme perché manifestazione sportiva? Perché prima di tutto ovviamente c'è una nuotata in mare dove parteciperanno sia amatori sia agonisti e anche ragazzi disabili che poi durante l'anno agonistico si allenano in piscina perché loro partecipano tra l'altro anche regolarmente a delle competizioni, gare regionali che si svolgono appunto in piscina però estendono queste loro capacità anche alle acque libere quindi partecipano anche in questo caso simbolicamente a questa nuotata. Grazie.